quella che sta scendendo che sta scendendo dove è in direzione della del market ok ci sono delle barracks lì di fianco ma dove? dove sei adesso a sinistra che fucile hai? ah sono barracks queste si sono barracks oddio metal pole ma che roba è dai io si vengo ogni 5 secondi oh porco dio sono andato altri oh allora vedo il bandito sta correndo dalla power plant verso la tua direzione è da è da dove hai arrivato tu prima oddio per rubare i mezzi ah lo vedo lo vedo lo vedo lo vedo occhio eh se lo fai avvicinare io ti tiro delle granate diversi dimmi Antoine per sbloccare i mezzi serve la crewbar proprio ammari uno proprio mi sembra giusto e lei mi è uscito il messaggio per sbloccare però ammazzato no 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 è ancora vivo eh mi ha ammazzato lui cara fai che venga a luttare il tuo corpo ma col fuci la pompa di merda oh mappa lo vedo lo vedo lo vedo arriva 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 eccolo eccolo scusa che cazzo mi chiedi ho tre granate tirale tutti a raffica presupposti non ammazzato le granate guarda non esplode eh metti su ma eh metti su ma ok così capiscono che non stanno scherzando no 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 gli ha scritto no c'è anche Heimer mi sa ciao ciao ciao